Sembrava un rovo di sterpaglie. In realtà era una vera e propria piantagione di marijuana realizzata in un terreno abbandonato nelle campagne intorno a Ravenna, alimentata con un accurato sistema di irrigazione e illuminazione e abilmente nascosta da una fitta vegetazione. Per individuare dall'alto il campo, gli uomini della Guardia di Finanza hanno fatto ricorso all'utilizzo di elicotteri e soprattutto di droni radiocomandati, gli stessi che normalmente vengono utilizzati per i sopralluoghi tra gli edifici danneggiati delle aree terremotate. In questo modo i militari hanno potuto tenere sotto controllo, senza essere visti, i responsabili che entravano e uscivano dal vivaio. Le fiamme gialle hanno arrestato una persona denunciandone altre due a piede libero. 182 le piante di canapa indiana sequestrate per un peso complessivo di 7 quintali.